Vietato a costruire parchi verdi, portano l'uomo in una dimensione dove non sente il continuo bisogno di spendere, perché lo portano a godere del cielo e della terra. E questo non è buono. L'uomo, per nostro volere, deve rinchiudersi in centri commerciali, dove, in mezzo al ricordo di ciò che doveva essere, deve vagare in piena solitudine nell'insoddisfazione di non poter avere ciò che apparentemente soddisferebbe la sua esigenza di evadere. Vietato dare valore all'arte, è un pessimo nemico, è un riflesso della verità, e la verità è dannosa. La verità sgretola le nostre essenze. Vietato dare segnali di educazione civica, i nostri rappresentanti devono essere l'esempio della corruzione dell'uomo. Devono perdere ogni valore, devono vestirsi interamente di apparenza. Vietato dare credibilità a nuove idee, sono veleno per la nostra crescita. Porterebbero l'uomo a sperimentarsi. Porterebbero il popolo ad esprimere in democrazia il proprio parere. Ricorderebbero all'uomo che è lui responsabile, in quanto proprietà pubblica. Il nostro intento è quello di non permettere all'uomo di essere libero, di vedere il cielo, di godere della luce, di poter essere felice perché avente il necessario. Noi siamo il processo di macellazione del genere umano. Se esso vuole sognare per qualche ora, paga. Entra in una multisala dove proietteremo solo quello che riteniamo essere innocuo per i nostri interessi. Noi siamo i primi a volere la rivoluzione, perché siamo i primi a prendere in giro lo Stato, il governo. E chi si crede di poterci bloccare? Affinché non accada che un domani un bambino si svegli felice di poter correre in un parco e di poter conoscere un suo coetaneo e volergli bene, dobbiamo infondere il terrore verso il diverso. Dobbiamo separare le opinioni. Dobbiamo portare il popolo a lottare, scontrarsi, devastare tutto. Tanto i nostri interessi sono assicurati. Dobbiamo convincervi che chi sta con noi potrà essere presente al nostro cerimoniale, dentro le nostre innumerevoli ville, nei castelli e nei palazzi. Decideremo tra un calice e l'altro del nostro pregiato vino quale testa tagliare per sperimentare la nostra crescente insensibilità. Non ci interessa il vostro futuro. Noi siamo in pochi a non riuscire a godere del nostro presente perché è troppo pieno di apparente, troppo infelice e meschino, viscido e basso. Voi per noi siete solo consumatori di ciò che noi rendiamo sempre meno salutare per voi. Perché voi siete i nostri servi. Vi inchinate, ci invitate e quando siamo presenti siete onorati di essere la nostra portata preferita. Buon appetito!